Mentre la maggior parte degli studenti è in vacanza, c'è chi attende una delle prove più importanti della propria carriera scolastica. 2072 piacentini si stanno preparando per l'esame di maturità che inizierà a mercoledì con la prova di italiano. Ai licei sosterranno l'esame 1015 candidati, agli istituti tecnici 719 e ai professionali 338. 48 sono le commissioni impegnate nel piacentino. Si comincia a mercoledì con la prova di italiano. Il giorno seguente sarà la volta della prova di indirizzo, lunedì 27, il giorno dei quesiti, il cosiddetto quizzone, per passare poi agli esami orali che variano a seconda degli istituti e si apriranno per i candidati con l'illustrazione della tesina. Complessivamente nella regione Emilia-Romagna sono quasi 32 mila i maturandi, 1550 in più rispetto all'anno scorso. Il direttore dell'ufficio scolastico regionale Stefano Versari ha rivolto una lettera agli studenti che si conclude così Preparatevi impegnandovi con semplicità, senza isterismi e senza panico, ma anche senza scorciatoie, strafottenza o incuranza. Non siete chiamati ad essere i più bravi e non dovete stare male. Siate semplicemente voi stessi, al meglio che potete, in sede di esame e per il futuro che vi attende.